L'incontro organizzato ieri sera da Extra TV è stato sicuramente molto interessante, uno dei più interessanti ai quali personalmente abbia assistito da quando seguo questa televisione locale, che devo dire fa effettivamente delle cose carine, partita doppia, diciamo che quasi sempre almeno un argomento interessante c'è e anche l'altra, quella che viene fatta all'arca di Noè, è abbastanza spesso interessante. L'argomento di ieri è stato sottolineato più volte da Giorgia Scaccia e da Paolo Sarandrea era un argomento particolarmente delicato, non si parlava dei soliti argomenti più o meno frivoli o più o meno importanti che vengono trattati in quella trasmissione, ma diciamo l'argomento principe per gli esseri umani, quello della vita, della morte, del confine tra la vita e la morte. E da una parte c'era Nina Welby, che non credo abbia bisogno di presentazione, e dall'altra parte c'era quello che ieri è stato definito il professor, qualificato il professor Biagio Cacciola. Devo dire che da una parte gli argomenti, il modo in cui sono stati esposti da Nina Welby erano molto chiari, almeno per come li ho percepiti io, dall'altra parte un po' meno, però certo va detto come giustificazione, come scusante di Biagio Cacciola, insomma per la confusione con la quale ha portato avanti i suoi argomenti, almeno ai miei occhi, rispetto invece alla cristallinità di Nina Welby, è che diciamo Nina Welby magari si occupa soltanto di questo argomento in maniera approfondita e continua, mentre magari l'amico Biagio Cacciola si occupa di tantissimi argomenti, perché insomma se già andiamo a vedere le trasmissioni che io ho seguito su Extra Tribù, una volta era il filosofo, è stato il filosofo Biagio Cacciola sulla questione delle prostitute a Colleferro, un'altra volta era il politico Biagio Cacciola l'arca di Noè dove si è parlato di tante cose, ma della questione della Fiat e ieri era più asetticamente il professor Biagio Cacciola, anche se insomma in più di un momento, se per non dire la maggior parte dei momenti, l'avrei definito il reverendo Biagio Cacciola, padre, fratello Biagio Cacciola, insomma. Comunque, vando adesso a questa polemica un pochettino scherzosa, di cui sono convinto se Biagio ascolterà mi perdonerà, diciamo che ieri l'argomento è stato veramente molto serio. In realtà qui ci troviamo di fronte a due visioni del mondo, a due visioni del mondo, diverse ed opposte. Vorrei dire comunque preliminarmente che è stato usato diverse volte il termine eutanasia nella trasmissione di ieri. Allora, che cosa intendesse eutanasia Mina Welby o che cosa intende, diciamo, l'associazione Luca Coscioni in generale era abbastanza chiaro. Per cui, insomma, anche se Biagio Cacciola non fosse stato del tutto digiuno dell'argomento, avrebbe potuto capirlo sia dai frammenti dello spot che sono stati mandati in onda, sia dalla breve biografia di Pier Giorgio Welby. Cioè, per eutanasia si intende il diritto da parte del paziente, dell'essere umano, del cittadino che soffre, di porre termine alle sue sofferenze. Quindi tutti quanti gli altri discorsi poi che sono stati fatti da parte di Biagio, in cui addirittura è andato a tirare fuori il Terzo Reich, chiamandolo poi eutanasia, in cui più che altro, diciamo, si voleva depurare la razza, quindi eliminare i down, eliminare quelli proprio non proprio sani, evidentemente anche perché si stavano preparando per la guerra o era in corso addirittura la guerra e quindi volevano liberarsi semplicemente delle persone, degli elementi meno necessari se non addirittura dannosi che costituivano un ostacolo. Quindi, quello ha detto benissimo Mina Welby, non può essere definita, cioè non c'entra assolutamente niente con l'eutanasia. Non era neanche teso a porre termine alle sofferenze di qualcuno, ma semplicemente, come dicevo, a liberarsi di persone che costituivano un peso per la società. Né d'altronde, per eutanasia, si intende o perlomeno sicuramente non l'intende Mina Welby per eutanasia, il fatto che qualcuno si impietosisca di un patente, di un amico, eccetera, e magari senza manco farglielo capire uno lo sopprime. No, non era questo qui l'argomento e non è quello che viene chiesto da parte, per quello che ho capito io, da Mina Welby e dall'associazione Luca Coscioni. La questione è, per come l'ho capita io, semplicissima, cioè se una persona ad un certo punto ritiene che la propria vita non sia più vita, ha o meno il diritto di chiedere che possa, poi specialmente se non può farlo da sé, come è il caso di George Welby, che essendo del tutto paralizzato non poteva neanche suicidarsi, dico, ha più o meno il diritto di chiedere alle persone che gli stanno intorno ai medici di porre termine alla sua vita? E questo qui è il quesito. E ha il diritto lo Stato, nel momento in cui c'è un medico o qualunque altra persona che interviene per aiutare, insomma, per soddisfare la richiesta di questo paziente, terminale, più o meno terminale, insomma, diciamo terminale, che sta soffrendo, ha il diritto o meno di punirlo per omicidio? Questi erano i quesiti, in realtà, che poneva, che credo ponga sempre Mina Welby. Allora, tutto quel discorso che ha fatto, viaggio, sulla statolatria, sul fatto che lo Stato non deve legiferare, ma lo Stato già legifera, perché nel momento in cui dice che quello è omicidio ha già legiferato. Non è vero che lascia lavorare in santa pace, non sono i medici che decidono tra di loro se un caso è omicidio e l'altro non lo è. No, è a un certo punto il codice penale che lo stabilisce, che non ammette proprio che si possa por termine alla vita, che si possa por termine alla vita volontariamente, quindi già lo Stato interviene sulla questione. Non è che dice alla classe medica, vabbè, è una cosa che ci dovete pensare voi, per cui decidete voi se dovete fare il giuramento di ippocrate, se non lo dovete fare, valutate magari con un collegio medico se una persona possa essere aiutata a morire o se si debbano interrompere le cure, il cosiddetto accadimento terapeutico. No, il codice penale parla chiaro e quindi si tratta di decidere se vanno più o meno abrogate quelle norme che consentono al magistrato, a un magistrato di procedere penalmente contro un medico che aiuta un paziente a morire. Questo è il quesito. E in qualche modo diciamo che Biagio in una parte diciamo abbastanza relativa del suo intervento o dei suoi interventi ha risposto, cioè nel senso che la sua risposta è stata negativa, perché Biagio ha una visione della vita che poi quanto ho capito personalmente c'è anche Mina Welby, perché insomma Mina Welby anche la presentazione ha mostrato che era contraria al fatto che il marito ricorresse all'eutanasia. Addirittura ci è stato raccontato che non ha rispettato la promessa che aveva fatto a Pier Giorgio di non chiamare soccorso proprio per l'Italia. Vabbè insomma quello che vedendo la trasmissione, la bella trasmissione di ieri, chiunque può vedere senza che io lo racconti di nuovo. Biagio ha esposto, questa volta devo dire in altre occasioni ha esposto la dottrina cattolica, l'ideologia cattolica diciamo un po' molto in maniera personalizzata. Devo dire per quel poco che posso giudicare io che ieri era abbastanza corretta, cioè lui ha detto che no, che non è possibile, nel senso che la vita non sono rose e fiori, la vita va accettata in tutte le sue manifestazioni, è una croce che quindi bisogna caricarsi sulle spalle e che quindi niente, se uno, il suo destino è quello dei suoi familiari, dei suoi cari e che debba arrivare alla fine della vita in maniera così soffrendo, vabbè vuol dire che era destino e lo deve accettare perché tanto è un passaggio, non è che finisce tutto qui, che c'è l'aldilà, non so se poi credo al paradiso, all'inferno, al purgatorio, questo non lo so e che quindi niente, così come ha fatto Gesù che ha accettato la sofferenza, quindi vabbè, però in ultima analisi una risposta esplicita anche un po' pragmatica, a Mina Welby non è stata data. Al di là di quello che ha detto ieri Biagio, che mi è apparso abbastanza chiaro, cioè che comunque lui è contrario, quindi che un buon cristiano deve accettare di buon grado la croce che gli cade addosso. Poi non si capisce, questo è un altro quesito, se per quale motivo poi tutto il resto, diciamo, della società, dell'umanità, debba accettare il punto di vista del credente, sia esso cristiano, musulmano, hindu, quello che ti pare, quindi anche se fosse semplicemente un'emigranza, perché dovrebbe accettare questa filosofia di vita? Ma al di là, diciamo, di quello che ha detto ieri Biagio, o che potrebbe aver detto, e che magari non ho accorto, però ho sentito tanti cattolici, anche politici cattolici, trattare la questione come a dire, vabbè, non possiamo pretendere che sia lo Stato a legiferare, in ultima analisi si può fare, però, ecco, cioè come a dire, Welby poteva tranquillamente non staffare tutte queste storie, insomma, nessuno gli avrebbe detto niente, se qualcuno gli avesse staccato senza dire niente, senza stare a proclamare, senza fare nessuna battaglia politica, se qualcuno gli avesse staccato la macchina o addirittura gli avesse messo un veleno, insomma, nel sangue, nessuno ci avrebbe pensato a denunciarlo, il che probabilmente accade in centinaia, forse migliaia di casi l'anno, però voglio dire che al di là, diciamo, dell'ipocrisia, che si può anche accettare, perché poi alla fine tante cose si basano sull'ipocrisia e vanno avanti per secoli e alla fine possono anche essere funzionali alla vita degli esseri umani, però, insomma, non è detto che poi qualcuno invece, per qualsiasi motivo, invece alla fine venga perseguito penalmente. E poi, appunto, quello, perché secondo me, perché quando io tante volte ho letto interventi di persone invece che soffrono, che stanno male come Welby o di più e dicono, no, ma noi invece vogliamo vivere, è che secondo me viene inoculato l'idea che una volta passato il principio si potrebbe, diciamo, arrivare al passaggio successivo, per cui alla fine si potrebbe procedere a eutanasia o, diciamo meglio, alla soppressione di persone che magari soffrono e non, però non vogliono continuare a vivere. Quindi, diciamo, un pochettino come quello che veniva denunciato da Biagio e anche da Mina Welby riguardo alla politica di epurazione del Terzo Reich, ma, voglio dire, è semplicemente buttarlo in cacciara, perché non è di quello di quello che, di cui si sta parlando. Dopodiché è chiaro che i pericoli stanno dappertutto, perché la Chiesa accetta, per esempio, l'espianto, no, i trapianti, addirittura il Papa, dieci anni fa, fino a dieci anni fa, si era messo nella lista, adesso è stato detto che siccome il Papa non può stare nella lista dei volontari, insomma, per il trapianto dopo la morte, ma anche lì allora è pericoloso, pure lì c'è l'area di mistero, dove sta, tante volte magari può essere che qualcuno viene dichiarato morto qualche secondo prima che possa invece, perché? Perché c'è l'esigenza di togliergli gli organi, eppure, insomma, mi pare che la Chiesa alla fine lo sia accettante, il pericolo c'è e anche in questo caso può esserci il pericolo, però non è che si risolve il problema semplicemente rigidendosi, cioè si accetta anche il principio, il punto di vista degli altri e poi si cerca di eliminare quelle che possono essere le strutture. Io queste sono semplicemente delle mie considerazioni abbastanza confuse, però ecco, sentivo il bisogno di esprimerle.